Trasferta polemica quella del PD Samuele Astuti che stamani di buon'ora è salito sul treno dei pendolari delle 7 e mezza a destinazione Milano. La mattina insieme a Pino Tuscano e altri tesserati del PD siamo qui a Varese presso la stazione per parlare con i pendolari, fare volantinaggio per renderli edutti di quello che sta succedendo. Arrivano treni nuovi per tutta l'Italia e invece in Lombardia forse arrivano 9 treni usati. Il problema non è soltanto quello dei treni, della sicurezza sulla rete, la sicurezza all'interno dei vagoni e la capacità di prendere e riuscire ad avere finalmente un servizio di trasporto pubblico che sia puntuale e possa essere una vera alternativa invece al trasporto su gomma. A fianco del consigliere regionale troviamo Pino Tuscano che armato di logo dei Guns N'Roses, giusto per non smentire la fama di esponente Dempio Rocchettaro di via Monterosa, ha chiesto un intervento immediato di Trenord affinché la qualità dei 2200 convogli lombardi possa almeno avvicinarsi a quella di altre regioni italiane. Praticamente in Lombardia ci sono più treni che della Toscana e Lazio messi insieme, ma un servizio peggiore delle altre regioni perché la gestione della società Trenord è una gestione negativa sul piano dell'efficacia e della funzionalità. Quindi proponiamo maggiori investimenti nelle stazioni, accanto alle stazioni e in modo particolare aumentare l'efficienza, la sicurezza e la manutenzione dei treni che attualmente vive una fase di degrado.